La RSU della Cooper Standard Automotive, archiviata alla pratica premio presenza e rientrando dallo stato di agitazione, ora chiede garanzie per lo stabilimento battipagliese. Aspettando l'assegnazione della commessa riguardante Jeep Compass, unitamente i sindacati hanno chiesto espressamente ai vertici di Cooper con una nota stampa che, per nessun motivo, venga delocalizzata la produzione ad oggi in carico allo stabilimento di battipaglia, sia essa diretta o indiretta, come quella di Cooper Service e di altri stabilimenti che lavorano per conto terzi della Cooper Standard Automotive di battipaglia. La RSU è inoltre preteso che al prossimo incontro con i vertici aziendali venga presentato il nuovo piano industriale, si legge nella nota, fondamentale per capire quali sono le reali intenzioni della società. Tutte e quattro le sigle sindacali rappresentate da Michele Di Benedetto, Donato Vece, Michele Castaldi, CGL, Castellino delle Donne, CISL, Ivan Panico, Antonio Arenella, Confail, Tonino del Verme, Gabriele Pisticci e Gaetano Gioia Will hanno iniziato una serie di consultazioni con i propri iscritti per informare le maestranze dello scenario attuale e di quello che potrebbe presentarsi in futuro prossimo.